Allora, proseguiamo noi, la seconda prova della vita l'hai superata e adesso proviamo... Ah già, hai voglia proprio di avere una nuova sfida, siamo pronti? Allora, via, di nuovo, vediamo un attimo quanto ci riusciamo. Dov'è? Bravo, il primo colpo! Oh, vedi? Vedi? E adesso questo te lo godrai ancora di più e penserai che hai assolutamente trovato il modo per riuscirci sempre, no? E adesso sarai ancora più convinto, fai ancora. E invece no, amore, perché è qui, vedi? E allora riproviamo, vediamo. No, è ancora qui. Dai! No, è ancora qui. Vedi? Vedi la vita come ti sta fregando? No! È ancora qui. Dov'è? Bravissimo, Lolli, bravissimo! Hai visto? Ci hai provato tantissime volte, ma non l'hai mai spresso. E adesso facciamo con dei pezzi ancora più grandi e ancora più appetibili, ok? Dai, amore, dai! Bravissimo, sei fiducioso. Ce l'hai rifatto al primo colpo e premio ancora più grande. Vedi, amore. Sei pronto per concludere? Vai, amore, vai! Forza! No! È qui, amore. Vedi quanto è grande? È ancora qui. Dai! Forza, amore! Bravissimo! Abbiamo concluso, amore. In poche parole, nella vita, tu ci provi, continui, non ti fai abbattere, non ti fai buttare giù da nulla. Ma rimane sempre un dato di fatto, che bisogna avere tanto culo. Comunque, tanto culo. E dove non arrivo il culo, deve arrivare la perseveranza. Però, è sempre culo. Dico, lo bello. Poi rollo! Grazie.